Ciao, io sono Lorenzo e questo è X-Plane Blog e Tutorial Italia. Oggi vedremo l'aeroporto di Boston. Sì, lo so che devo fare, anzi, devo finire l'altro tutorial, però c'è tempo, prima vediamo questo. A dopo. Ed ecco qui l'aeroporto di Boston, in Massachusetts. Non so se si dice così, non voglio fare gaffe incredibili, comunque l'aeroporto è questo qua. Sapete che su YouTube c'è questa moda di fare gli unboxing, l'unboxing l'ho fatto fondamentalmente io per voi con questo aeroporto. Vediamo in cosa consiste. Lo troviamo direttamente sul sito di xplane.org, è un freeware, ed è costituito essenzialmente da una cartella. Il file zip è un file da 382 MB, quindi non piccolino. All'interno, una volta dezippato, troverete due cartelle. Una cartella per quanto riguarda l'aeroporto vero e proprio, una cartella che contiene fondamentalmente il photoscenary. L'aeroporto, comunque, scaricando soltanto questi due pacchetti, non funzionerà, avrà bisogno anche di una libreria esterna, che è sempre dello stesso autore. La libreria esterna è la libreria Mr. X Library, versione 1.2, se usate un'altra versione, anche in questo caso vi darà degli errori. Tutto l'aeroporto, come sempre, da inserire nella cartella Custom Scenery, così come anche la libreria di Mr. X. Allora, sono presenti fondamentalmente tre terminal, il terminal A, il terminal B e il terminal C. Vi lo faccio vedere direttamente con il PDF, come funziona. Vedete, questi sono i due terminal, uno, e vediamo se riesco a farvi vedere anche l'altro, andiamo giù, scusate, vado su, e questo è il terminal C e il B. Quindi l'aeroporto è completissimo. Molto bello l'arrivo sul runway 33, che adesso vi faccio vedere subito, perché si arriva, eccolo qua, perché si arriva fondamentalmente dal mare, quindi atterrare qui è veramente molto bello e interessante. Quindi aspettate che tolgo questo. Benissimo, vi faccio vedere dov'è l'arrivo sul runway 33, è laggiù in fondo, ho sbagliato, eccolo, oh mamma mia, vado troppo forte, lo vedete laggiù in fondo, l'arrivo del runway 33, ecco il suo arrivo dal mare, di notte, quindi l'effetto è veramente interessante. Come vi dicevo prima, ci sono un sacco di oggetti presenti all'interno di questo aeroporto, un po' dovuti alla presenza della libreria, un po' dovuti, diciamo così, all'autore, che ha voluto rendere tutto molto più realistico. Vedete addirittura qui c'è una zona dove i pompieri possono andare a fare le loro esercitazioni. Ma torniamo quindi di nuovo all'interno dell'aeroporto, vedete che ci sono anche i finger, che sono dotati di autogate, questo è molto interessante soprattutto quando arriveremo, atterreremo a quest'aeroporto, e una cosa molto bella è che ci sono tutti questi oggetti, se movibili, se moventi, vedete, che girano intorno all'aeroporto, macchinine piuttosto che camion per il trasporto del carburante, eccetera, eccetera, insomma, quindi tutto molto realistico, tutto molto bello. Aspetti positivi e aspetti negativi di questo aeroporto? Sicuramente gli aspetti positivi è il livello di dettaglio e di realismo dell'aeroporto stesso, che come vedete è veramente molto interessante e molto appagante anche alla vista. Poi le taxiways sono sempre ben definite, ben segnalate, quindi è difficile perdersi in questo aeroporto, tra l'altro abbastanza sconfinato. La presenza del photoscenary è sicuramente un tocco di realismo in più ed è molto bello da vedere, e come dicevo prima la presenza degli auto. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, beh, ci sono tantissimi aerei statici che se da una parte ci rendono tutto più vero, realistico, dall'altra però se facciamo soprattutto voli con i VAU piuttosto che VATSIM, potremmo avere il problema di trovare i posti fondamentalmente occupati, quindi questo darebbe un po' fastidio. Poi ci sono quindi tutti questi oggetti semoventi che hanno un'incidenza sul frame rate e che quindi avrete bisogno di un computer abbastanza performante per atterrare in tutta tranquillità su quest'aeroporto o anche soltanto partire. Infine la nota dolente è che quest'aeroporto occupa tantissimo spazio all'interno del nostro hard disk. Ad esempio, qui sono ritornato un attimo al mio aereo, praticamente sull'hard disk solo l'aeroporto pesa 661 MB, il photoscenary 226 MB e la riberia di Mixter X ben 560 MB. Insomma una bella ammucchiata superiore al giga, soltanto per questo aeroporto che comunque, pur essendo bello, necessita di spazio o comunque di un hard disk dedicato soltanto a X-Play. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Mi raccomando mettete mi piace su questo canale e arrivederci alla prossima.